Ciao a tutti, sono José Bassiano, un ragazzo diversamente abile di Lentini, che vuole raccontare un po' la mia storia, come sono nato, praticamente la malattia è davvero dispastica, non posso muovere tanto bene che le mani, e soprattutto mi ha colpito il cervello dei comandi, e soprattutto è che negli anni 60, voglio dire negli anni 66, non venivano conosciuta questa malattia, dopo tanti anni ho avuto amici passi, 5 anni e mezzo, e poi sono stata ospitata a Siraculpa, il centro area di Siracusa, che è stata una terapista, Laura Gennelli, di Bari, la Siracusa, che era al centro area, che mi ha fatto camminare, ma è grazie a lei, ma è grazie anche alla mia volontà, soprattutto, e poi ho presentato nelle scuole elementari, nelle scuole superiori, nelle scuole medie, soprattutto quando ho cominciato a camminare, finalmente se non avevo il suo di più bene, soprattutto ma è grazie alla mia volontà, ma è grazie anche ai miei genitori, ma è grazie alla mia volontà, soprattutto perché ho avuto il coraggio di affrontare la vita di tutti i giorni, se potete è una malattia spastica, vostra patente dice, diciamo non posso muovere tanto bene se le mani, soprattutto, però sono riuscito a camminare, sono riuscito anche, poi sono stato anche con un tassi all'Ud, soprattutto mi hanno fatto fare il bagno nell'acqua benedetta, dopo un mese, ho buttato i primi passi, ma è grazie anche alle strutture, soprattutto per andare avanti. Io ho cominciato a lottare negli anni 80-90, quanti questi ragazzi non venivano accertati nelle scuole, perciò diciamo che mancavano dell'abbattimento delle barriere altre scuole, c'è che mancava anche l'insegnante del segno delle strutture, però ma grazie a me oggi, i ragazzi che vanno a scuola, hanno l'insegnante del segno, hanno detto, a me struttura ho frequentato i primi divani della regioneria, poi ho voluto lasciare, mi sono andato all'istituto professionale, mi sono stato per il commercio, poi ho fatto altri tre anni e mi sono diplomato di segretario di amministrazione, ma grazie alle mie volontà, oggi sono diplomato, oggi ho 8 qualifiche di computer, una di programmatore, poi ci sono altri qualifici, soprattutto di segretario l'amministrazione, l'amministrazione, l'ambiente, il programmatore, il settembre internet, eccetera. E poi ti posso dire la mia voglia di vivere, il mio coraggio, diciamo che la mia storia, volevo fare conoscere soprattutto come io utilizzo il canile, ma a quell'epoca quando questi ragazzi non venivano accettati nelle scuole, soprattutto perché se la legge non veniva applicata, soprattutto aumentavano l'assistenza, aumentavano l'insegnante di sostegno, ma alla fine ho vinto delle battaglie, perché la legge che mi permetteva, soprattutto, di segundava. E poi mi avevano applicato una circolare, che non era per me una circolare dell'istituto professionale di spazio per il commercio, perché il mio certificato medico, del medico provinciale, dichiara una malattia, un'altra prendita espastica, soprattutto che non sarebbe la malattia mentale. Invece, l'istituto professionale, a quell'epoca, avevano applicato una legge, una circolare, che avevano ridurato un'ambicappale mentale. Poi loro hanno messo della zona, soprattutto perché non era una malattia mentale, soprattutto non potevo scrivere con le mani, però alla fine ci sono riuscito ad avere gli insegnanti di sostegno, ad avere il compito dell'aula, ad avere delle strutture. Io mi sono diplomato nel 94, ma grazie alla mia volontà c'era Agatha Bosco di San Gifonte, poi a quinto anno c'era Mariella Vitanza, che mi ha usato grazie a loro che mi hanno questionato anche a 10 anni. Però ci posso dire che quando ho frequentato nelle scuole sono diventato una persona molto socievole, molto educato, mi occupo di ragazzi diversamente agili, oggi è una grazie alla mia volontà, oggi i ragazzi vanno a scuola, mi insegnano delle strutture. E poi la mia esperienza mi ha portato anche alla politica, soprattutto di fare conoscere, soprattutto alla mia conoscenza della disabilità, purtroppo ci sono persone che capiscono, purtroppo ci sono persone che non capiscono, però la disabilità si deve rispettare soprattutto. E poi ho lottato contro l'amministratore comunale, contro l'amministratore scuola, contro tutti, perché c'è le leggi che non vengono applicate né l'abbattimento delle barriere dell'acquistone, né il lavoro per i disabili, né meno la stipenda per i disabili. Io ho cercato di tutto, di rimuovere le acque, ho cercato di andare a lavoro, purtroppo e ogni volta ci cercano quando è l'ora di andare a votare non siamo considerati ambili, quando partirà il voto non siamo considerati ambili. Io personalmente ho cresciuto nella mia vita, ho sempre lottato per queste cose, cioè nella mia vita ho conosciuto soprattutto il dottore Uco Nogini, il dottore sanitario della Vosella, ma grazie a lui che mi ha sostenuto, l'uso, ma grazie anche all'asile che mi ha fornito un computer per poter lavorare benissimo con il computer, con internet e c'è, ma grazie anche a lui che mi ha aiutato fino a oggi, mi sostenere, è un dottore sanitario della Vosella di Ventini, è un consigliere comunale soprattutto mi ha sempre sostenuto e mi sta sempre vicino. Invece altri politici non mi hanno mai ascoltato, non mi hanno mai considerato come un normale, mi hanno considerato come un animale. Io addirittura ce l'ho con il sindaco di Lentini, soprattutto quello che c'è ora, soprattutto io faccio una critica politica, non è una critica personale, soprattutto la mia vita è sempre allontata per fare critiche politiche, non è critica personale. Un sindaco di sinistra mi viene a dire io per sé perché non farò mai niente, perché mi hanno intendato qualcosa. Io ero a fiancato da un sindaco di destra, però come amico, ma non come politico. Però addirittura che il sindaco di Lentini, soprattutto di sinistra, mi ha detto su, da me non deve venire, tu te ne devo andare, nessuno può comprare lì di destra. Soprattutto, ho cercato di tutto, soprattutto di andare avanti, soprattutto di capire nella mia vita, però ho cercato di in tanti modi di andare avanti. Io ho cercato di avere, diciamo, il lavoro adatti per questi ragazzi di diversamente abili. Oggi, ma grazie al dottore Uco Madili e ai dottori sanitari, abbiamo affrontato la consulta di diversamente abili, la consulta l'abbiamo affrontata assieme, l'abbiamo portato in consiglio comunale. E soprattutto, ma grazie a me, al dottore Uco Madili, il consigliere comunale, il dottore sanitario, ma grazie a lui, oggi la consulta esista. Oggi sono vicepresidente della consulta, ma grazie a lui se l'abbiamo portato in consiglio comunale, l'abbiamo fatto approvare 11 consiglieri 5 anni fa all'opposizione, perché quelli della maggioranza che lavorano a Bocane. Ma grazie al dottore Uco Madili è stato, diciamo, è stato sensibile a queste problematiche. E poi, ma nella vita vado avanti, soprattutto vado avanti nella mia vita. Adesso vado in giro, vado nei pub, nei ristoranti. Oggi ci sono, c'è l'abbassinante delle barriere alzioni. Oggi abbiamo a Lenzini, soprattutto nel ristorante, si chiama Antenna Bianca, piatto in destra Lenzini, dopo tutta l'abbassinante delle barriere alzioni, soprattutto la scivola all'ingresso dei pub, poiché i bagni adatti per questi ragazzi diversamente abili, però a Lenzini, comune, non ha fatto nessun abbattimento delle barriere alzioni, nemmeno in piazza, nemmeno in tutta Lenzina. Abbiamo qualche scivola in piazza, ma grazie al me, soprattutto, abbiamo questa scivola. Però io sono stato l'unico all'effare nella mia vita. Oggi vado nel ristorante, vado nei pub, vado in giro, non mi faccio conoscere nella mia vita. Però c'è una persona che possa capire la disabilità. Però io voglio le famiglie che hanno questa disabilità, di farle uscire queste ragazzi. Non bisogna fare sentire inutile nella società, bisogna essere condattoriati, ma non perché hanno la disabilità fisica, la disabilità mentale, o la disabilità down, o la disabilità cieco. Bisogna capire questi ragazzi, bisogna fare sentire inutile alla società. Io voglio ritornare a vecchi tempi quando questi ragazzi ancora nelle scuole non capivano della disabilità. Oggi, ma grazie alla mia volontà, ma grazie alla mia voglia di andare avanti, ma grazie anche alla mia volontà e soprattutto. Però ti posso dire che oggi mi sento utile alla società. Anche se non ho il lavoro, però io riesco bene a lavorare con il contributo. Oggi ci sono degli strumenti adatti per questi ragazzi diversamente abili e possono anche registrare e fare dei video e mandare su Facebook, anche su Youtube, soprattutto di far conoscere tutte le mie esperienze. Oggi tuttora poco ho 47 anni, non ho lavoro, non ho niente. Purtroppo un sindaco di pensione mi ha sempre diffusato dicendo tu da me non devi venire. Purtroppo non mi ha dato il volto nessuno, nemmeno la sua famiglia. io cedevo il registratore in basca, ti faccio sentire tutte le parole, mi ha detto lui. Io alla fine ho detto beh vado avanti lo stesso, cercherò di fare conoscere la mia inabilità fisica, se c'è perché è molto difficile di andare avanti, però io voglio che i giornalisti possano scrivere, raccontare le esperienze che ha avuto questo ragazzo che sono io, soprattutto vi darò un esempio, anche altre persone di famiglia, però di cercare di andare avanti. Oggi mi sono inserito in delle associazioni, si dice che non hanno servito a niente, soprattutto perché cercano solo soldi, però non vanno mai avanti. Invece io non voglio nulla, io cercherò di andare avanti, io cercherò di compattere, soprattutto come mi diceva lo sabbola rosa insieme, mi diceva il coraggio che hai tu, forse io non ce l'abbiamo, tutte le volte vieni qua in premissione, che bastiano dai un segno di vita e un segno di coraggio. Io voglio chiudere questi video messaggi perché ancora è una storia lunga, soprattutto di fare conoscere ancora una volta oggi, purtroppo siamo a mano di nessuno, soprattutto né nel sindaco né onorevole, che sono stato deluso nella mia vita, ho cercato di intervenire nel mondo del lavoro, purtroppo il sindaco di Lentino non mi ha mai dato un posto di lavoro né l'uno né l'altro, però chi mi ha aiutato veramente, mi sta vicino, è il dottore sanitario Uca Mazzini, il dottore sanitario della USM. Io voglio chiudere questo video messaggio dicendo che nella vita bisogna avere il coraggio, la forza, la voglia di vivere. Io ho chiudere questo video messaggio dicendo che io spero nella vita che qui come noi, che non ne nascono più, perché è difficile accettare che la nostra cosa sta avendo. Io ho chiudere questo video messaggio dicendo che è un male tremendo se possibile davanti ad una persona. Io l'unica cosa che posso dire, ho cercato di tutto, io non voglio vivere con una pensione minima, non mi interessa a me la pensione, a me mi interessa di andare a lavorare per essere in contatto con gli altri, di sentire utile alla società. Noi siamo un animale, non siamo cittadini periodi, ma siamo cittadini periodi, allora i cari amici giornalisti, cari amici su Facebook, di cercare di cercare di andare avanti e cercare di cercare avere coraggio, la forza e la voglia di vivere, soprattutto come dice la canzone di Gigi D'Alessio, dice non mollare mai, oppure come dice la canzone di Paolo Gardasio, le persone inutili, oppure la forza della vita, che significa che tra persone che non se vuole niente, che tra persone che danno la forza della vita, che di avere coraggio, la forza, la voglio di vivere.